Il presidente Mattarella, tra l'altro lo sanno tutti, ha avuto una vittima in famiglia perché è fratello di quel Piersanti Mattarella, presidente della regione, che fu ucciso dalla mafia parecchi anni fa, non mi ricordo, ma era il 6 gennaio e fu ucciso proprio a Palermo in pieno centro. Detto questo, cambiamo argomento, bisogna comunque mettere in campo qualcosa che dia fiato all'economia perché le mafie, come avete anche sentito, agiscono soprattutto dove non c'è un'economia florida, lasciamo stare la possibilità del pizzo che è un'altra cosa, bisogna resistere, chiamare i carabiniere, ma quando ci sono ambienti degradati, ci sono situazioni di povertà, la mafia trova sempre adepti, trova sempre gente disposta a fare qualunque cosa, quindi un impegno assoluto è proprio quello di dare alla popolazione la possibilità di vivere nel migliore dei modi. Ora ci sono le elezioni europee, quindi una parte della popolazione si sta muovendo, una parte della forza politica si sta muovendo per convincere gli elettori a votare per loro. C'è una realtà che è quella della democrazia cristiana che però in queste elezioni non ha trovato uno spazio autonomo tale da potersi presentare da soli e quindi c'è bisogno di una alleanza. Lo abbiamo chiesto all'onorevole Ignazio Abate che domenica farà un incontro in un locale sulla strada che va da Modica a Pozzallo, mi pare si chiama il Giardino della Contea, ci sarà un incontro per chiarire proprio cosa dovranno fare i simpatizzanti, gli elettori della democrazia cristiana. Alle prossime elezioni, vediamo.